Capisco, non lo ricordi. Sapresti almeno dirmi come si chiama il fiume che attraversa il Cairo, Vitus? Non ne ho idea. Articolare bene, Vitus. Articola. Non ne ho idea, ma potrei guardare sull'Atlante se lo vuole sapere. Sì, potresti. Ma se dà il caso che io conosca già il nome di quel fiume. Quindi gli insegnanti sanno sempre di più dei loro allievi, giusto? Diciamo che il più delle volte è così. Sì, anzi, quasi sempre. Allora lei deve sicuramente sapere anche che è l'inventore della macchina a vapore. Certo, ed è una domanda piuttosto facile. Quel signore si chiamava James Watt. E come mai non è stato l'insegnante di James Watt a inventare la macchina a vapore? Surreale.